Come è la riforma del MES? L'emergenza in realtà si sovrappone ad un'altra emergenza che è più duratura, che è quella che vede i livelli declinanti di crescita di produttività e di redditi già da molti anni a questa parte. Questo pone dei seri problemi alla banca centrale europea, ad esempio a tutte le banche centrali del mondo, che hanno in questo momento alzato le mani. Da diversi mesi a questa parte stanno dicendo che se non interviene la politica fiscale la situazione non può essere ripresa. Hanno esaurito gli strumenti. E su questo poi oggi questo richiamo dello Stato viene ribadito tramite appunto anche il problema dell'emergenza del coronavirus da grandissima parte delle Stati, come stiamo vedendo. Ma allora qual è il punto e qual è la prospettiva che apre questo richiamo dello Stato? Il punto innanzitutto è che questo richiamo è stato fatto non quando i livelli di disoccupazione, di povertà erano insostenibili. Perché in quel frangente la crisi la stava pagando il popolo. Questo richiamo è stato fatto nel momento in cui gli interessi dei grandi gruppi bancari e finanziari e assicurativi sono cominciati ad entrare in crisi. Il bassissimo livello dei tassi di interesse dovuto alle politiche monetarie che tentavano di stimolare l'economia ha creato dei buchi di bilancio, ha creato dei problemi di bilancio e adesso si invoca l'intervento dello Stato. E allora in questa partita noi dobbiamo intervenire avendo il bene in mente che cosa? Punto primo, il primo insegnamento qual è? Che i soldi se servono vengono creati. Non sono stati creati quando c'è la disoccupazione a tre cifre, vengono creati ora. Il punto due, forti di questo ribaltamento del piano, noi dobbiamo dire che i soldi devono essere creati quando le esigenze sociali lo invocano e la gestione quindi dell'intervento dello Stato e dell'economia non può essere una riproduzione di governo tecnico così come avveniva nell'ambito della politica monetaria. Perché vedete, il gestire la situazione tramite un riferimento a un governo tecnico che opera in situazioni emergenziali recide quello che è il processo democratico e quindi recide quelle che sono le esigenze, i diritti sociali che devono essere trasmesse ai vertici della democrazia e che devono operare appunto a secondangole. E allora, questa partita è aperta, i fronti sono contrapposti e a maggior ragione la riforma del MES deve essere chiusa perché la riforma del MES in realtà impedisce di giocare questa partita. Questa riforma è uno spostamento del potere, dell'asse del potere, verso i creditori privilegiati. È fortemente voluta dalla Germania e su questa riforma praticamente noi avremo il MES che gestirà attraverso l'inasprimento dei vincoli di austerità, quindi attraverso una brutale logica austeritaria, le valutazioni che dovranno essere fatte sull'esigenza degli Stati, quindi le valutazioni dei rimborsi, i criteri di classificazione che la storia ha fatto vedere come in realtà peggiorino le crisi, mentre invece qua vengono rimesse al vertice dell'agenda. Ed in più inserisce una facilità di ristrutturazione del debito e tutte queste riforme creano un combinato disposto che fa sì che la percezione dei mercati finanziari verso i titoli di debito pubblico italiani in realtà sia altamente lesiva di quelle che sono le nostre potenzialità. Questo alto livello di rischio determina una riduzione del valore dei titoli di debito pubblico e determina pertanto la possibilità seria di una crisi finanziaria che si trasmetterebbe poi ad una crisi economica e quindi il nostro già tartassato tessuto produttivo si troverebbe in una situazione assolutamente insostenibile. Pertanto il rimandare al mittende la riforma del MES è la possibilità per noi di giocarci questa partita e di aprire un nuovo modello di sviluppo economico e sociale.